Buongiorno ragazzi sono Matthew Sebi, bentorni sul mio canale, oggi siamo in questo nuovo video, bello, saluta Allora finalmente sono tornato sul canale da veramente tanti ma tanti mesi che non portavo video sul canale Ok adesso Ok in questo video In questo video praticamente andiamo a pescare in un bel laghetto Parla Dite dove stiamo andando Stiamo andando a pescare a Sant'Alberto A Sant'Alberto Seguitelo fino alla fine perché prenderemo un casino di pesci Sapete perché ve lo dico? Perché a Sant'Alberto appena punti, buttate giù, prende subito A meno che non è chiusa Forse è vero che oggi parte lì Ma no Vabbè se è chiuso sto video non lo vedrete Quindi Adesso ci vedremo appena arrivati là Bella Siamo arrivati All'aghetto Sant'Alberto Adesso ci metteremo Ecco là già una carpa è saltata Vabbè adesso andremo a pagare E inizieremo a pescare Cosa è? 4.00 Cosa è? È il gioco Qui sono inizieremo? Sono dovutei Cosa stuperemo? Penso di sì E pensando di sì E l'ingesto? È un genio Che è schifo Ma perché si ferma? Cosa거�àà? Cosa vive? Cosa è scusato? Cosa è scusato? Cosa è scusato? Cosa è scusato? Mattia, stringi di più quella frizione, ma no, non credo che si spacca, stringi, sennò non lo prendi più, no? Eccolo! Ma è forte, eh? Ma cosa anche io? Vabbè, guarda il tuo adesso, stringi? Sto, lo stiamo. Guarda, cosa è che c'è da cantiglio, la canna che è stata qua? Eh eh, eh, cambia parte! Ah, lui si decide, se si impantana, ti sembra di aver taggato un pietrone. Ti conviene tirare ancora? Eh sì, da lì pure un col figlio, anche lui, non so. Ah, poi c'è lui, già si! Finché non vuole lui, non parte questo, vedi? Guarda che si è appoggiato sul fondo. Adesso sta fatto a tirare. Intanto vinci tu. Non si deve tagliare tutto. E' argo, ecco, ci sono i butti in fondo. Raga, mi sa che abbiamo preso un pesce più grosso del lago. E' 20 minuti che ha attaccato. E' venuto su un solo occhio. Dai, faccelo vedere. Faccelo vedere, tira! C'è questa emozione. Se tiro, spaccolo. Ah! Un po' devi dargli lenta, perché se no spaccolo. Non troppo, sennò... Arriva in fondo, cerca di non dargli il fondo. E' una... Mi sa che è più grosso della... Riprendi la canna, guarda come si piega. E per questa è dura di canna. È da mare. Raga, c'ho paura. Per me qua... Sono river monster, raga, river monster. Non so quanto pesa. Io credo a quelli d'asse me la posso far pesare da loro. Se si spacca questa è più giù. Dai, sali un po'. Riprendi l'acqua. Un po' non si... Qu'è? Un po' non si... Lo stringe, perché altrimenti... No, perché non lo voglio perdere. Appunto. E quindi... Se stringo la lenza, tira, tira e si spacca dopo un po'. No, mamma. Ecco, si sta alzando. Tu fallo vedere, ma là. Ah! No, perché le dai ancora fruzione. Sto morendo. Da quant'è che sei lì? Era in un quarto. Tra un po' tra mezz'ora. Basta di dargli lenza. C'è molta forma. No, si è messo sul fondo. No! Che lenza, papà! Se devi aspettare come prima... Taglia. Eh? Taglia. Ma che taglia? Sei rimesso sul... No! Sei rimesso sul fondo. Sì! 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 È qua... È sotto, raga! È qui! È qui! È qui! È qui, mamma! Basta solo! L'avremmo già preso! È la scarica! È la scarica! Più su la canna, mamma! Vai, non sta la canna dritta! È la scarica! 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 hai messo molto per c'è un motivo è che penso il più grande del laghetto mamma mia bravo Matti è un signor pesce bravo Matti minimo la foto mi volevo chiedere a quella se potevo farmelo pesare no dai si vede più o meno cosa sarà ah per me 15 kg è sicuro questo qua se vuoi farglielo posare per me stacca questo fai il coso ce l'hai l'osamatore si è emozionato adesso ma ce credo povera bocca sta soffrendo ma chi ci arriva fin là Mattia non pesarlo sono 15 kg dai dai no ma te lo zitta è più scelta no fammelo questo sì che grosso perché quello di prima 17 kg era piccolo è più scelta devo andare a riprendere il guadino stai facendo un video raga un'altra un'altra è più scelta Oh, eccolo, 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 mamma guardi, prendi là, era salito un po' come l'avevo vista, è salito al pionco, no mamma ti rendi, dopo ne provo un altro, si? Ho sentito attacca, raga veniteci perché a prendere delle bestie, io ero andato nel laghetto delle carte, solo che qualche mangiata, ma niente di che, sono grosse, sì, però raga ve lo sicuro, sono venuto qua, sono andato a sentire dal signore con cosa pescavano, mi è andato un viustel, dei viustel con la pancetta, pancetta no, oh oh, mi sa che è salito là, ma è troppo lento, viustel usate, pancetta no, bella, questa è una vita bella, già ho preso un bestione pieno, ah non vi ho detto quanto pesava, non vi ho detto quanto pesava, pesava, quanto pesava, dillo te, non mi ricordo, 16 figli, 16 figli, se vuoi diciamo 20, ma era 16, è un pochino, ed era grosso, chiedere la frizione, ma ci si sta scaricando, vabbè, oh magari, però ho paura che sì, quanto è? 4, 5, vabbè, oh, magari vi mostrerò qualche foto, anche se non riesco a farvi di, eccolo è là, se si vede un po' super, sto bloccato, devi, grazie a tutti